Sul processo breve, il voto sditto a mercoledì prossimo, le opposizioni lamentano poi in particolare il silenzio da alcuni giorni di questa parte del guarda sigilli al panno sul problema? Il guarda sigilli parla se ha qualcosa da dire. L'ultima volta che ha parlato ci ha spiegato che i provvedimenti a persona non ci sarebbero più stati perché ci si avviava una riforma epocale della giustizia. Con amarezza constatiamo che si è persa anche questa occasione per riformare la giustizia a favore dei cittadini e si è pensato solo di inseguire le ossessioni giudiziarie di Berlusconi. Da un lato del Parlamento allungano i processi, dall'altro l'accorciano, non si capisce più niente. È veramente una cosa senza precedenti. Sull'immigrazione tutto è chiaro. Hanno preso in giro il Parlamento dicendo delle mezze verità. In realtà il permesso temporaneo, se non c'è una delibera europea, consentirà alla Francia i respingimenti e questi andranno dove vogliono, dal Veneto alla Lombardia. Per cui la Lega è inutile che faccia finta che le cose vadano diversamente. Le cose vanno così purtroppo. La loro demagogia non ha risolto i problemi come era prevedibile. Il Presidente, ma la Francia diceva stile, come diceva le parole? Arrivederci.